E' un nuovo video di presentazione, piccola intervista e poi andiamo a fare le visite, seguiamo, sono andato insieme. Leggermente girato, ok? Perfetto, bellissimo. Non è più che, quindi non è più che, ma è più che, non è più che, non è più che. Perfetto, 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 perfetto. L'altro lato Ok, lo scudetto Questo qui è sorvidente Un errore da Venezia, volete che fai l'opposto? Sto agassato Perfetto, ottimo Alzala un po' Calda, calda così? Sì, mettila un po' più Guarda bene, facciamo un po' il braccio così Sì, perfetto Brava, tienila così, perfetto Così Non so, prendo la camera tua Mettia Indicami lo scudetto Prefalo, indicami lo scudetto Vai Ok Poi Simo Guardami Vicino a 1,10 Ok Facciamo le stesse cose di prima Di un po' Un po' A livello alto In light Aspetta però è deciso ci siamo metti al centro guarda lui frappello ok veramente guardate a me guardate a me guardate a me guardate a me sarà buona anche la forza che non lo giochi se trova la pista sei rilassato tira su tra qualsiasi cosa viene qua grazie mille è stato un piacere benissimo bene bene il feature stampa bene mi ha fatto 70 mila foto video digital bello fresco grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 140 su 80. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 140. Vado ora? Aspetta, quando ti metti dritto vado. Vado? Posso andare? Ciao ragazzi, il mio primo giorno da giocatore del Catanzaro è andato, vedo l'ora di vedervi tutti allo stadio, forza Catanzaro. Ciao ragazzi, forza Catanzaro. Grazie a tutti.